Bomba dell'ultimo minuto a Milanello. Preparatevi a fare i salti mortali per quello che è stato annunciato. Questa notizia bomba promette di sconvolgere la giornata di tutti i tifosi rossoneri. Ma prima di rivelare tutti i dettagli, voglio che mettiate mi piace e vi iscriviate al canale. In questo modo, sarete sicuri di ricevere le principali notizie e aggiornamenti sul Milan in prima persona. Non perdetevi nessuna notizia. Yusuf Fofana è ormai a un passo dalla prodare al Milan e la dirigenza spera di ingaggiarlo prima che parta per gli Stati Uniti. L'edizione di questa mattina della Gazzetta dello Sport riporta che questa potrebbe essere la settimana decisiva per l'accordo con Fofana. C'è già un accordo con il giocatore sulle condizioni personali, ora serve una spinta finale con il Monaco. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Manchester United e dell'Atletico de Madrid per Fofana ed è vero che entrambi i club hanno chiesto informazioni. Questa notizia ha spinto il Milan a intensificare il gioco nelle ultime ore per cercare di raggiungere un accordo con il Monaco. Secondo il quotidiano, ieri ci sono stati colloqui telefonici positivi tra le due amministrazioni e si è raggiunto un accordo sulla parte fissa, che si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Nel prossimo round di trattative si cercherà di trovare un accordo sui bonus e poi Fofana potrà finalmente considerarsi un nuovo giocatore rossonero. La Gazzetta continua sottolineando che nelle prossime 48 a 72 ore le cose potrebbero concludersi. Positivamente è che il giocatore ha un passo. Una volta risolte le ultime questioni tra i due club, il 25enne potrebbe firmare un contratto quadriennale da 3 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, il doppio di quanto percepisce nel Principato. Inoltre, a Milano, Fofana incontrerebbe i suoi compagni di squadra Mike Magnan e Tio Hernandez, oltre a un utrito contingente francofono. È interessante notare che il giocatore è già stato in Italia nelle ultime ore, piché il suo amico Moussa Diaby si è sposato a Firenze. Potrebbe essere la sua prossima casa. Allora, tifosi rossoneri, cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Yusuf Fofana è la scelta giusta per rafforzare il centrocampo del Milan? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e discutiamo di questa importante decisione. Forza Milan!